Gara di solidarietà per sostenere il sistema sanitario alle prese con l'emergenza coronavirus. La Banca di Credito Cooperativo Campania Centro ha deciso infatti di donare 100.000 euro al presidio ospedaliero di Eboli per l'acquisto di beni e servizi. L'obiettivo è quello di dare un ulteriore segno concreto di vicinanza alle difficoltà delle comunità di cui la banca è espressione, in cui i presidi sanitari e i loro operatori stanno facendo un lavoro straordinario in cui i rischi e sacrifici sono immensi. La ditta Motta di Battipaglia invece ha donato un ventilatore polmonare al presidio ospedaliero di Battipaglia.